namaste io sono istabrave e bentornati ad un altro episodio di sneak peek la rica che esce un po' quando mi pare che vi mostra un gioco diverso dal solito oggi in versione 1.0.54 è appena uscito mi è appena stato consegnato dai cari sviluppatori fatemi spostare giusto questa perché ci sono un non questa scusate questa volevo dire no ho fatto una cazzata al bello della diretta facciamolo subito questo va qua ok adesso è giusto volevo dare un po di spazio a chi è in chat in questo momento perché stiamo registrando dal sito viola e vedremo loot river un gioco molto molto interessante scusate che devo focalizzare perché sennò il controller non funziona e in italiano ci sono un bel po di cosucce da guardare come potete vedere ed è anche tradotto in parecchie lingue diverse assistente focalizzazione di che cosa si tratta vediamo inserisci il nome io sono ace caricamento guardati bene da coloro che si abbuffano di conoscenza i loro corpi diventano recipienti di moltitudini che crescono in qualcosa di nuovo è un gioco molto particolare perché è un ruglite c'è un protagonista che è una maschera che sembra che adesso lo vedrete è in pixel art ma in pixel art un po particolare ci sono tante piccole cose sotto di me c'è il un timer questo è il menu quindi vedete che ci sono tantissimi elementi di gioco già già immediatamente c'è un posto si credo che il posto ideale sia stare in basso a si potrebbe essere in basso a sinistra ma anche qua non è male come come posto per la telecamera allora statistiche ace vedete che ho un cappello e una gorgera una spada e una lancia o un si possono vedere che cosa sono il cappello del cacciatore il collare virtuoso la spada del colpevole la lancia dell'artigiano l'anello di resistenza maggiore una pozione forza vitalità destrezza resistenza intelligenza punti disponibili quindi c'è possibilità anche di andare su di esperienza quanto pare ci sono le monete e sblocca upgrade permanenti con la conoscenza da questa parte ci sono le due armi quindi la spada del colpevole lancia artigiano cosa fanno e poi abbiamo tutte le caratteristiche insomma che derivano da quelle di là la salute l'esperienza il mana l'armatura critico danni quanto danno facciamo quindi la velocità la resistenza il fuoco elettrica al veleno e al ghiaccio alcune non le vedete che sono un po coperte è un gioco che si presenta molto molto particolare vedete che c'è il nostro personaggino la sotto in alto c'è la mappa lì ci sono i comandi probabilmente si con x cambiate l'arma questo è uno scatto questo è un evitare rt per attaccare guardate le animazioni è un gioco in pixel art ma in pixel art 3d quindi già da questo vi fa capire che è fighissimo si è un modello 3d ma in realtà è renderizzato in pixel art le avete a destra fai scorrere la piattaforma questa è la caratteristica unica di questo gioco il fatto che è un ruglite dove andate in giro ma al tempo stesso spostate le piattaforme da una all'altra guardate l'effetto dell'acqua che figo e quindi vado di qua e posso andare di qua posso prendere questa e spostarla prendere questa e spostarla c'è il tastino per schivare questa posso metterla di qua ok ok adesso ho capito come è fatto questo questo è il sopro di qualcosa quindi questo lo sposto di qua questo lo sposto di qua quindi la caratteristica di questo gioco principale la gimmick se vogliamo chiamarla così di questo gioco è il fatto che hai queste piattaforme che puoi spostare ed è un elemento puzzle perché effettivamente non so dove sto andando ad esempio qui in quella zona non ci posso arrivare perché questa piattaforma non passa ma c'è una piattaforma più piccola che ci passa sì c'è questa quindi teoricamente io potrei prendere questa e farla arrivare lì per farla arrivare lì quindi questo è l'elemento puzzle bisogna fare così questa la spostiamo su in modo che c'è spazio in movimento e in teoria prendendo questa possiamo arrivare qua sotto rb per attaccare qua recuperiamo un po' di soldi ah abbiamo una combo sì abbiamo una combo molto lenta abbiamo una combo molto lenta da tre colpi però non male nota gli attacchi leggeri rapidi in rapida successione si collegano l'un l'altro ok questi questi sono tre attacchi fatemi vedere io sto premendo l sono diventato invisibile con lb perché la nostra in alto a sinistra c'è l'immagine così quindi a questo è l'attacco forte e questo è l'attacco forte ok quindi c'è l'attacco forte attacco debole rt per caricare l'attacco ok c'è un super attacco si può anche puntare mentre lo stiamo facendo e non seguirmi ok bello c'è un banco un po di sangue ci sta comunque molto molto fico caricare un attacco aumenta i danni dell'arma spesso attiva l'abilità speciale dell'arma allora con il grilletto quindi andiamo qua ok assicurati di sperimentare con le armi diverse non ho la certezza che gantry sia impazzito non vede che non è rimasto nulla su cui regnare a parte questo non è un regno è una tomba a parte acque malsane e cadaveri gonfi che fico qua possiamo decidere anche se andare giù o su eh comunque già già così si presenta molto graficamente molto bene l'atmosfera molto cupa ci sta questa notte l'abbiamo già letta sì che ci siano questi questi sistemi un po complessi ci sta abbiamo anche il parry stavo cercando di capire cos'è come come funziona il parry no a questo ok proviamoci nuovo sia leggermente dopo ottimo sei salito di livello per il menu e quindi qua abbiamo le caratteristiche che sono qua quello il 2 che c'è sopra di me è il livello e possiamo decidere se aumentare forza vitalità destrezza resistenza o intelligenza intelligenza aumenta il potenziale magico ok resistenza equilibrio destrezza e velocità movimento andiamo con destrezza dai per iniziare a notare che abbiamo partiamo da tutto 10 e questo un po di più e vedete la differenza nei dati che c'è sopra di me insomma velocità aumenta di 0,05 però dai ci può stare ok me l'accetta semplicemente fermandoci guardate anche l'effetto l'effetto della luce è bellissimo guardate l'ombra di questo calderone che gira man mano che giriamo noi hai problemi con le parate aumentando la resistenza si allunga il tempo di parata oltre a far aumentare il tuo equilibrio se il tuo equilibrio è maggiore di quello dell'avversario puoi interrompere le sue azioni e anche farlo barcollare ciascun'arma è unica puoi assumere la posa difensiva con la lancia che hai in mano adesso mentre sei in difesa i danni che subisci ok questo è l'attacco no e se invece puoi assumere la posa con la lancia che hai in mano adesso ok posizione difensiva come si fa a assumere la posizione difensiva? tieni per molto il bussante parata per entrare in posa difensiva adesso vediamo quella cosa della levetta destra comunque devo cambiare questo ah ok tenendo premuto fa la parata così ottimo eccolo qua quindi premendo la levetta destra adesso abbiamo lockato il nemico un sauce like puzzle eh sì sì da un certo punto di vista è un po' sauce like ottimo fico fico guardate gli effetti sono bellissimi secondo me croci direzionale super curarti ok quindi gli oggetti sono abbastanza straightforward devo dire che è comunicato molto molto bene il gioco cioè quello che vedo a schermo mi dà una marea di informazioni subito che è una cosa fighissima ciao pezzo come stai vedo che sei anche tu in chat cicciottello c'è il mondo che mi segue scappa dai no sapete che faccio eh eh avevo parato vabbè ci carichiamo l'attacco a sfidanken sto per morire sto per morire fortissimo ah ok le lasciano veleno ah ah ce l'ho fatta quanta energia ho perché mi sembra che sono andato sotto zero ma forse è una cosa sì sono a meno 10 di salute in questo momento quindi c'è qualcosa che non torna a meno che non sia una cosa semplicemente perché sono una cosa tutorial e sono abbastanza scarso però a pensarci bene io posso fare questo e sono a posto nel senso che mi prendo una piattaforma vado per conto mio e posso curarmi altrove insomma armadio distruggi l'armadio andiamo di perri sì è da capire bene esatto il perri si può fare ma è da capire il tempismo di ogni nemico come è giusto che sia qui non ci passo quindi c'è una parte di puzzle e quindi devo fare così poi prenderci prendere questo portarlo giù riportare su questo portarlo di qua e adesso ho la piattaforma giusta per poter accedere a questa zona ok era giusto per vedere una morte e per provare a fare il perri ma a quanto pare di quell'attacco lì credo sia impossibile però fico 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 ci abbiamo giocato già per un pochino e siamo ritornati dall'inizio e credo che questo sia parte del loop di gioco in un certo senso a parte che sono nella zona iniziale però sneak peak è anche un modo per mostrarvi velocemente un gioco per farvi salire la culina in bocca se volete altre informazioni di questo gioco le trovate nella descrizione del video che sarà appunto su youtube fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo sneak peak grazie ancora della visione io sono Einstein Brave namaste and be brave